E allora ci trasferiamo a Noceva Superiore, in provincia di Salerno, all'Osteria Famiglia Principe, aperta da 68, dove c'è per noi Lorenzo Principe. Buongiorno Principe! Buongiorno! Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi parliamo di un piatto storico che rappresenta la nostra osteria, ebbene sì, Oscar Pariel. Dici gli ingredienti che compongono... Oscar Pariel è un piatto che io ho ereditato dalla mia famiglia, dai miei nonni, un piatto realizzato la prima volta proprio nel 1968. L'ingrediente Principe sono i pomodorini che sono di nostra produzione. Meraviglia! Allora, velocemente, dici come si fa questa ricetta. Allora, innanzitutto gli ingredienti. 320 grammi di linguine trafilate in bronzo, 4 barattoli da mezzo chilo di pomodorini di selezione del Principe, 4 cucchiai di olio extravergine dopo, 2 spicchi d'aglio, basilico fresco e sale. Come si intitola il piatto? O scarpa... O scarpa di alio. 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 Una volta che abbiamo servito questo piatto a tavola... Sì. Poi si fa scarpetta, o no? Perfetto. Come si fa scarpetta, o scarpa di alio.